Tutti in code a lungo fermi questa mattina sull'autolaghi per la chiusura delle due carreggiate a seguito del ribaltamento di altrettante auto in entrambe le direzioni di marcia nel territorio di Cerro Maggiore. Nel primo caso a finire a ruota all'aria è stata una vettura con tre persone a bordo alle 11.33 in direzione Milano. Poi sette minuti più tardi un'automobilista che passava in direzione opposta e che probabilmente si è distratto è rimasto coinvolto in un secondo tamponamento ed è finito a sua volta a ruote all'aria. Alla postrada non è rimasto altro da fare che chiudere entrambe le carreggiate per consentire i soccorsi e istituire uscite obbligatorie in direzione sud prima a Castellanza e poi a Bustarsizio e in direzione nord deviando il traffico sulla nove.